Cristian Raimondi, gioia irrefrenabile, segnare sotto la curva, un gol che va dai tre punti, segnare poi un gol è cosa che non ti è propriamente abituale. Sì, mi era abituale una volta perché una trentina di gol li ho fatti, però negli ultimi anni purtroppo non saporavo più questa emozione, che è sempre una grande emozione, ma provarla così sotto la mia curva con la maglietta dell'Atalanta, da tre punti soprattutto perché è la cosa importante che dico sempre io, sono i tre punti, è fantastico. Non ti sembra ancora vero? Stai cominciando a realizzare che è vero? Sì, più che altro c'è stato, appena visto che la palla entrava in rete, c'è stato un momento di trans completa, insomma è fantastico. Penso che qualsiasi bergamasco che magari è appassionato di calcio, che è cresciuto con l'idea e il sogno di poter giocare all'Atalanta, sa cosa posso provare in questi momenti. Un gol poi dedicato alla famiglia, quindi fa capire anche quanto sia importante. Sì, è giusto così perché se lo merita, è una famiglia numerosa ma fantastica, che mi sta sempre vicino, per cui non posso che dedicarlo a loro. Partita tutt'altro che facile quella contro il Palermo, perché Atalanta riduce sì dalla vittoria di San Siro, ma proprio per questo la partita contro il Palermo poteva nascondere insidie importanti. Sì, poteva nasconderle, le ha nascoste, ma noi lo sapevamo che le avrebbe nascoste. Sicuramente non pensavamo di fare una partita facile, magari in alcune circostanze non abbiamo giocato obiettivamente bene come in altre partite, però siamo stati secondo me bravi a rischiare non tantissimo e a tenere la partita equilibrata e poi a colpire alla fine. E adesso il Catania o per quest'oggi, domenica, si pensa solo e soltanto al Palermo? Io sono abituato a pensare subito alla prossima partita, però non in questo caso. In questo caso mi interessa e sicuramente fino a domani mattina mi godo questo momento.